E allora la Juventus fa 1 a 1 al Madrigal, allo stadio della ceramica di Villareal, nonostante di nuovo la Juventus va in vantaggio al primo a fondo, in questo caso primissimo da record di Dujan Vlaovic che appunto segna un gol magistrale col suo piede debole tra virgolette tra due centrali capitalizzando col massimo della precisione, il massimo della pulizia, il massimo del killer instinct da destra verso sinistra e lasciando praticamente di stucco il portiere Rulli, questa è la descrizione della Juventus che approccia la partita, che non riuscirà a portare a casa in termini di risultato lasciando aperta comunque la breccia al unico risultato a disposizione, Rigori evitando per la gara di ritorno, ovvero vincere, bisognerà soltanto vincere, non c'è il valore di questo gol di Dujan raddoppiato, non c'è più la regola, non c'è più forse neanche la forza, la convinzione nello Juventino che insomma sarà qualcosa in discesa, troppo presenti ovviamente gli accadimenti avvenuti con Ajax e soprattutto con Rione Porto negli ultimi anni, ma una convinzione anche che insomma questo Villareal non si può dire che abbia spaventato. Una Juventus staticamente nel primo tempo quasi perfetta, immaginando cosa possa aver chiesto Massimiliano Allegri alla squadra, perché ovviamente non è l'estetica, non è l'ideale, non è il dominare l'avversario, la declinazione con la quale misuriamo questa Juventus. E' lo stesso allenatore bianconero, a ripeterlo all'infinito, allo stremo, in ogni intervista, i prerequisiti, i dettami sono altri. E allora in base a questi dettami devo dire che il primo tempo della Juventus è stato da sette e mezza. Unica colpa non aver intuito, a mio giudizio, che Villareal quel gol lo ha patito, lo ha patito e come? E un Villareal totalmente sotto ritmo, accettando il ritmo della Juventus, se vogliamo anche il ritmo più in generale della Serie A, ha agevolato di tantissimo la preparazione tattica della gara, con un Allegri che aveva optato per la primissima volta in stagione, neanche mai un minuto in stagione, la Juve aveva giocato con la difesa a tre, ovvero a cinque, e invece l'impianto era stato pensato, il Villareal non l'ha capito nel primo tempo e soprattutto noi non abbiamo capito il Villareal, quindi questa pecca fa sì che il sette e mezzo non sia un otto, perché si poteva fare meglio con due situazioni clamorose, secondo me gestite male in tre contro tre, e si poteva fare meglio intuendo le difficoltà di sviluppo del gioco che aveva la squadra di Emery. Tutto questo è poi leggermente, e come su un piano inclinato, costantemente cambiato nel corso della ripresa. Dal decimo, dodicesimo minuto della ripresa il Villareal ha alzato il ritmo, non il baricentro, perché poi gli attaccanti di Villareal, zero presenza in area di rigore bianconera. Ma in qualche modo un Juventus più passiva, un Juventus che ha lasciato non solo il pallino agli avversari, ma anche il campo agli avversari, perché in termini di precisione se tu giochi palla lunga o se giochi sul contropiede lungo, sull'uscita letale da giocarsi con tre giocatori in fase offensiva in tutto, parlo dal centrocampo in su, ebbene devi giocare con una precisione tecnica incredibile, che pian piano la Juventus ha abbandonato, creando quindi pochissimi presupposti per tornare a essere costantemente pericolosa dentro la partita al cospetto del Villareal, perché questo è il fattore che aveva fatto la differenza fino a quel momento. Una Juve costantemente pericolosa, con un costante senso di poterti pizzicare, cosa che nel primo tempo avveniva ciclicamente, ogni 5, 6, 7 minuti, la Juventus che metteva la faccia, la Juventus che portava il pallone in area avversaria, la Juve tremendista in contropiede, è sparita, di certo non abbiamo avuto in questo senso il miglior contributo da parte di Alvaro Morata, che è un grande verticalizzatore di azioni, invece si è trovato a fare il Mario Banzukic della situazione, combattendo, mettendo i denti, facendo i falli, mettendo i gomiti, prendendo i gomiti, prendendo i falli, ingaggia al limite, spesso valutati nel caso di Morata, questo accade spesso, lo dico, perché poi lui ha questo atteggiamento un po' apparentemente molle, perché poi molle non è che, perché i fischi non fallo neanche sotto tortura, però Morata costretto a fare davvero il gregario a tutti gli effetti e non la vera spalla di Dujan Vlaovic, però Dujan Vlaovic la copertina se la prende, era l'uomo più atteso, aveva anche qualche fucile puntato, mi pare che la parita di Vlaovic sia stata di assoluto spessore, anche andando oltre. L'episodio del gol record, ovviamente, 32 secondi, virgola 8 decimi per timbrare il cartellino al suo debutto in Champions League, è stata una gara volitiva quella di Dujan, è stata una gara precisa, giocato d'aperture, ha avuto una palla in secondo tempo, secondo me il rulli ha fatto sembrare facile quella parata, inventata quasi a nulla da Vlaovic, Vlaovic che ha saputo anche essere manovriero, ma una cosa l'abbiamo messa, secondo me, un po' agli atti, anche dopo il derby e dopo la gara di questa sera. Se alziamo il pallone a altezza occhi, mettiamo in difficoltà Vlaovic, perché oggi la giochiamo davanti, o se deve lavorare di sponda, lavorando con la testa e col corpo, palloni di ampia altezza, beh, non è Birov, non è Lewandowski, non è Drogba, non ancora, meglio giocare palla per terra, ha difeso tanti palloni Benedujan, ha creato presupposti anche un po' da solo in alcune situazioni, sicuramente ha fatto una gara di grande presenza, molto diversa ovviamente da quella che gli è stata debitata con Tuttorino, segnatamente nel duello a tutto campo con Bremer e questo ovviamente è quello che al momento ci basta, se non fosse che il giorno è andata, diciamo, hai solo Dybala, chiamiamolo così, e se non ti aggrappi i suoi gol, i suoi assist e ti becchi i suoi infortuni, hai dei problemi. Parlo come produzione offensiva, come pericolosità, come varianti davanti, adesso non c'è Dybala, Iblavic, ragazzi, ma gli altri, quando segnano? C'è da dire che fanno anche un po' poco, la squadra fa poco per far segnare gli altri e si aggrappa, si affida molto ovviamente alla capacità di tramutare in oro quello che gli accade, però diciamo che possiamo dire che a livello tattico sicuramente Allegri non ha preso lezioni da Emery, se non fosse che il gol subito è da psicodramma, nel senso che un'autostrada centrale a ridosso dell'area, ovviamente, tanto più nel calcio di Allegri rimane totalmente incomprensibile. Incomprensibile coabitazione tra De Ligt e Rabiot, si è capito dall'atteggiamento dei compagni che, per come evidentemente la Juve fa esercitazione difensiva, il vuoto è totalmente di Rabiot, che vede Pareko muoversi e inserirsi e lo guarda. Adrienne avrebbe meritato il rosso, non è intervenuto il VAR, intervento sconsiderato in un momento stradelicato della partita, avevamo appena subito il pareggio, sembravamo un po' all'angolo in termini di idee. E mettiamo in conto anche il brutto infortunio Meccanè, che condiziona tantissimo, secondo me, le prossime 3-4 partite. Non conosco ovviamente la prognosi, perché in assenza anche di Dybala le varianti offensive iniziano di nuovo a depauperarsi, perché, ripeto, se attacchiamo con tre uomini questi tre devono essere giovani, forti e con un pizzico anche di intesa in più che non sembrano cercare totalmente il campo. Il risultato è buono, la qualificazione resta leggermente a favore della Juventus, il fattore Stadium, il fattore Duggen, il fattore Allegri devono fare un po' di differenza in questa Champions. Poi la stagione non verrà giudicata sulla Champions, a meno che non la fai benissimo, a meno che non sei strabiliante, non stupisci te stesso, perché me lo ricordo che ad agosto la parola Champions non c'era in nessuna frase del tifoso medio Juventino. Certo, non si può andare sotto o troppo sotto le aspettative in tutte le competizioni che facciamo, questo sarebbe ovviamente diabolico. Appuntamento quindi il 15 di marzo a Torino per la Champions, per andare ai quarti, per rifarsi di un po' di disastri che abbiamo combinato negli ultimi anni. State con noi, mettete mi piace, cliccate la campanellina per ricevere le notifiche, seguite ovviamente il canale, noi ci siamo. Ciao!